Per quel che riguarda invece il piccolo Samuele, visto che c'era stato chiesto il bambino in buone condizioni e rimane la prognosi riservata, come avevo detto prima, più per prassi medico-legale che peraltro ha solamente febbricola regata alle infezioni da colpi estrani, le schegge, ma non ha fratturo quant'altro. Nota, non so, quanto di gioia o quanto di tristezza in questo momento, oggi compie 7 anni il bambino, quindi oggi è il suo compleanno, non sa della nonna ed è con la madre, è tenuto anche sotto osservazione da un punto di vista psicologico, neuropsichiatrico, un bambino autosommato agitato come può essere qualunque bambino di 7 anni che col caldo che fa è costretto a stare in una stanza di ospedale che non è il posto migliore e anche ospitale per un bambino. Questo per quel che riguarda i pazienti ricoverati, eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Grazie.